26.176 richieste di aiuto a Mantove Provincia, 17.411 solo nel Destrasecchia, quasi 415.000 chilometri percorsi nel Mantovano dai volontari per oltre 42.000 ore di volontariato. Questi dati dell'anno 2014 per l'Auser. Le richieste sono decisamente aumentate al punto tale che noi abbiamo dovuto aumentare i nostri punti di riferimento, in modo particolare questa telefonia sociale che è con il numero verde dove tutti possono chiamare per avere dalla semplice informazione a qualsiasi servizio e l'abbiamo proprio posizionato nella zona dove si concentra il più alto numero di persone anziane, quindi del basso Mantovano, la zona ostigliese per intenderci. A farla da padrone il servizio di accompagnamento protetto ma in aumento anche l'ascolto telefonico. Novità 2015, un progetto con ASL per contrastare il gioco d'azzardo e la violenza sulle donne. Per non dire no, i volontari fanno i doppi turni, da cui l'appello. Se qualcuno vuole dedicare una mezz'ora alla settimana all'Auser è il benvenuto. Il programma ha anche un'importante iniziativa culturale, la biblioteca in casa. Per consegnare dei libri alle persone che hanno difficoltà alla mobilità a muoversi, ma che la testa è ancora sana e quindi per non annoiarsi o non incretinire davanti al televisore facciamo questo servizio di consegna a domicilio dei libri, quindi gratuitamente, perché poi la consegna del libro tra l'altro viene fatta anche con i ragazzi della Casa del Sole e dei ragazzi diversamente abili. Questo fine settimana poi a Torriano di Serravalle a Po si svolgerà la tradizionale festa dell'Auser. Tema di quest'anno le generazioni insieme per il benessere delle persone, oltre alla tradizionale cena di Babette con gli anziani ospiti delle RSA Mantovane, eventi e iniziative per tutti i gusti e le età.